Non si ferma il campionato da sogno della Vispesero che continua a viaggiare su ritmi e latitudini di classifica sconosciute. Questa volta la squadra di Stellone la combina grossa battendo Albenelli il Pescara capolista fin qui in battuta e che aveva finora vinto in ogni trasferta. Albenelli finisce 1-0 una partita vissuta su due episodi chiave, l'espulsione del mediano pescarese squizzato per doppia munizione dopo appena 25 minuti e il delizioso pallonetto di Alvino Coro che al 61esimo decide un match in cui il Pescara anche in 10 attacca a testa bassa per tutta la partita trovando un grande Vukovic sulla sua strada. Per la visse la terza vittoria consecutiva condensata in una settimana e la conferma al sesto posto in classifica. Nel basket torna a respirare la VL che ritrova la vittoria battendo con fatica Orzinuovi alla Vitrifrigo Arena. Finisce 67-65 una partita punto a punto che contrassegna il terzo successo stagionale per i pesaresi, il primo con Spiroleca in panchina. Partita di sofferenza in cui la Carpegna Prosciutto Basket mostra una crescita sotto il profilo difensivo e soprattutto gioca una gara senza quei blackout che hanno fin qui contraddistinto questa disgraziata stagione. Orzinuovi parte forte ma la VL le rimane incollata andando all'intervallo sul meno uno. La buona vena degli americani Amade King, 25 punti il primo, 15 il secondo, riporta la VL avanti nel terzo quarto 52-48. Negli ultimi dieci minuti Pesaro tiene il vantaggio fino alla stoppata finale d'Imbro che consegna definitivamente due punti in classifica. Nella pallavolo sconfitta in quattro set per la Megabox Vallefoglia che a Bergamo cede alla distanza dopo un ottimo primo set vinto 25-17 e dopo aver giocato testa a testa gli altri tre. Amarezza soprattutto per il terzo dove le Tigri si divorano due set point. Biancoverdi che torna da Vallefoglia senza punti in classifica e con più di un rammarico per una gara alla portata ma vanificata da troppi errori. Rimpianti anche per la Fiorini Pesaro Rugby che perde in trasferta 21-18 con Sandonà dovendosi accontentare del solo punto di bonus difensivo. Dopo un primo tempo positivo per i Kiwi giallorossi chiuso in vantaggio 12-7 grazie a due mete arrivano due infortuni a complicare la partita e a portare il risultato finale a favore dei Veneti. Nel calcio 5-3 sconfitta in tre partite per l'Ital Service che perde a Napoli 6-2 e dire che i pesaresi erano andati in sul doppio vantaggio con la ravvicinata doppietta di Barichello. Napoli però chiude il primo tempo sul 2-2 grazie alle firme degli ex Caruso e Bolo. Il 3-2 di Pelesinia a quattro minuti dalla fine diventa una mazzata sulla quale Napoli dilaga con un'altra rete del brasiliano che oltre a Borrut e un'autorete disegnano una sconfitta esagerata nelle proporzioni.